Oggi sulle strade dell'arte incontriamo i colori della musica e dell'arte gastronomica. La musica innanzitutto. Nelle festività di fine anno c'è la tradizione a Gaeta degli shushi. Già l'etimologia o meglio il suono di questa espressione ci ricorda il vento, il suono degli strumenti a fiato, il fiato che entra in questi strumenti musicali. Ebbene gli shushi sono delle orchestrine che l'ultimo giorno dell'anno vanno a portare musica e auguri nei negozi, nelle strade, nelle case dei Gaetani. E questa musica in realtà è la musica catartica della purificazione, della liberazione dalle disgrazie, dai problemi, dalle difficoltà dell'anno vecchio. E una musica bene augurante per ciò che verrà. E' una musica ritmica, fatta di strumenti semplici e dai suoni persino onomatopeici, il tricaballac, gli urz, il putipù. Già nelle espressioni troviamo l'ironia, la gioia, il ritmo. Il ritmo della vita è il ritmo del nostro cuore. E questa musica ritmica ci aiuta a entrare nel nuovo anno. Gli shushi ereditano una tradizione bene augurante e musicale che alligna persino nelle festività dell'antica Roma. Gli ultimi giorni dell'anno, o meglio, dal 17 al 24 dicembre, quindi il periodo del solstizio d'inverno, il periodo in cui il sole raggiunge il punto più basso e quindi poi, dopo il solstizio d'inverno, comincia a rinascere, a risalire in cielo, le giornate si fanno più lunghe, ebbene, in questo periodo nell'antica Roma si festeggiavano i Saturnalia. Che cosa erano i Saturnalia? Erano delle festività in onore del Dio Saturno. Nella tradizione, nella religione greco-romana, il Dio Saturno era sbarcato sulle coste del Lazio e aveva insegnato agli abitanti del luogo l'arte dell'agricoltura, che poi era divenuta un'arte fondamentale per la civiltà. Non è un caso, per esempio, che nelle nostre zone c'è Spigno Saturnia, che prende il nome proprio da Saturno. Allora, in quelle festività si faceva musica, si giocava ad azzardo per profetizzare attraverso il gioco l'anno nuovo, ciò che sarebbe avvenuto meglio nella stagione successiva. Ancora oggi noi abbiamo ereditato dai Saturnalia la musica, la musica degli sciusci, e il gioco. Se noi giochiamo a tombola, e giochiamo con tutti gli altri giochi della tradizione del fine anno e natalizia, lo dobbiamo proprio agli antichi romani, abbiamo ereditato questa tradizione. La musica, allora, ci ricorda la necessità di ricostruire con le note, con il fiato, con lo spirito vitale che noi utilizziamo nel fare musica, di ricostruire il ritmo, il ritmo della vita. Con il solstizio d'inverno il sole comincia a rinascere. Il sole è una stella, è fatta di fuoco, ed è il fuoco un'altra connotazione simbolica, importante, dei giorni di fine anno. I fuochi d'artificio, i fuochi d'artificio in realtà si riconnettono ai fuochi che per secoli venivano accesi con il ceppo di Natale, con il ciocco di Natale, un pezzo di legno che veniva acceso nel camino e che bruciava dal periodo natalizio, quindi dal 25 fino all'Epifania, e accompagnava la rinascita del sole in cielo, che quindi ricomincia a salire in cielo, e la nascita dell'anno. I fuochi servivano a purificare ciò che avevamo compiuto nell'anno precedente, quindi i peccati, e allontanare le disgrazie. E serviva anche il fuoco a sostenere, quasi in maniera omeopatica potremmo dire, la rinascita del sole. Il fuoco aiutava il sole a rinascere in cielo. Ecco allora che noi abbiamo i fuochi d'artificio, l'ultimo giorno dell'anno. Ed ecco che il fuoco è fondamentale per l'arte della cucina, per realizzare il cibo che ci nutre e per realizzare i dolci natalizi e i dolci di questo periodo dell'anno. Anche i dolci incredibilmente si riconnittono alla festa dei Saturnalia. Racconta Plinio il Vecchio, Plinio il Naturalista, un grande scrittore dell'antica Roma, che nel periodo dei Saturnalia, di questa festività in onore del Dio Saturno, si realizzavano, si cucinavano nei forni casalinghi, dei dolci a base di farina. E ancora oggi la farina e i dolci sono presenti in questi giorni dell'anno. Ma sono presenti con la novità, la rivoluzione di Cristo. Cristo fa nuove tutte le cose. Fa nuovo quello che è il bagaglio culturale, tradizionale dell'antica Grecia e dell'antica Roma. E noi realizziamo i dolci. Il panettone, il pandoro. Panettone e pandoro hanno la radice etimologica pane. E il pane ci ricorda chiaramente il pane eucaristico, Cristo. Betlemme, il paesino, il villaggio dove è nato Gesù, in ebraico è Bethlehem, che significa, pensate un po', casa del pane. In arabo, Betlemme, Bethlehem, significa casa della carne. Cristo è pane eucaristico e in quel pezzo di pane, in quell'ostia consacrata, si fa carne, si fa corpo. Ecco perché, riconnettendoci certamente alle festività romane, in realtà poi noi trasformiamo quelle che sono le verità miracolose di Cristo, del pane eucaristico, nella festa dei dolci natalizi, nel panettone, nel pandoro, che sono dolci che richiamano la dolcezza del dono di Gesù. L'arte della cucina, allora, è strettamente correlata al fuoco che dà vita al dolce e a Cristo che, attraverso il dono della vita, della redenzione, ci offre la salvezza.